Garofalo presenta Eh, 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 eh E su, quel divano, su Gli ospiti arrivano fra poco e siamo in ritardo su tutto Pronta per la radossa? Pronta Quanta gente ha confermato questa sera? Tutta la crema Signora Marchesa Era da tanto che non ci vediamo Hai spendato sto bullo? Sembrate una coppia che vive già nel futuro Io e mia moglie siamo il futuro Guardalo su yahoo.it Questione di gusti Grazie